l'ultima domanda giorgio di questa lunga intervista la tua missione quando la madonna te la annunciò a fatima comprendeva un aspetto importante di questa realtà extraterrestre che quella messianica ecco due parole su questo processo che comunque non sarà come termine il contatto ma c'è un contatto divino con la seconda manifestazione pubblica di cristo se vuoi esprimere qualcosa il fine di tutto questo del quale abbiamo parlato stasera sia da parte sia da parte degli extraterrestri cioè nostra è un disegno il disegno del ritorno del messia gesù cristo che per noi rappresenta l'intelligenza cosmica compenetrato l'intelligenza cosa ecco quello non sarà un contatto quello sarà un giudizio e soltanto l'essere cristico può violare il libero e giudicare ci può essere una corte un giudice il giudice cristo ti giudicherà in base ai fatti sarà accompagnato dalla nostra confederazione perché quando cristo parla di angeli parla della confederazione di questi esseri certamente le legioni di angeli sono questi esseri universali che lo servono e lo accompagnano perché il cristo il capo di tutti questi esseri cosmici che ci guidano lui è il maestro dei maestri e quindi è nello stesso tempo compenetrato dal padre e soprattutto dello spirito santo lui tornerà ed è una missione della confederazione questa è la missione fa ritornare cioè aprire il terreno al ritorno del messia perché molti di noi questo non so se per te magari non lo è ma per il pubblico ma chi erano secondo voi giovanni battista pietro Matteo Matteo erano loro erano loro in missione era esseri che non sono di questo mondo chi era maria maddalena chi era lazzaro e chi era la bambina che gesù ha resuscitato a casa di jayro le monroeis esseri di altri mondi camuffati in palestinesi siriani era la confederazione che accompagnava il cristo incarnandosi in corpi umani ci sono terrestri meravigliosi bellissimi non sono extraterrestri ma sono degli angeli la confederazione questi esseri extraterrestri sono venuti per loro non tutti quelli buoni straordinari amanti della vita sono essere sono anche orgogliosamente terrestri nella terza dimensione e il loro spirito è sensibile a respingere la forma di caino l'idea di caino della violenza quindi per questa gli extraterrestri visitano la nostra civiltà anche per dare una mano d'aiuto a questi esseri poco evoluti ma bellissimi quindi a loro fanno parte di quegli eletti cioè di quelle persone che saranno scelte e che godranno di un'evoluzione tecnologica scientifica e spirituale che meritano ma non sono extraterrestri poi ci sono una squadra abbastanza forte di esseri che sono venuti qua e alcuni di questi donne e uomini io li ho incontrati li incontro e addirittura alcuni ce li ho in famiglia ma magari loro non lo sanno io gli ho accennato e loro dicono ma Giorgio magari forse è così buono cioè non mi credo in sostanza ma non ci fa niente l'importante è che mi seguono certo vuoi dare Giorgio adesso se guardando la telecamera quella che è di fronte se vuoi dare un messaggio al pubblico che ci ha seguito fino a questo momento quindi parlare alle persone che ci hanno seguiti e ascoltato fin qui e che ovviamente qualche migliaio sicuramente vedranno questa intervista a un extraterrestre ma devo lasciarmi guidare dal cuore perché non preparo mai nessun discorso posso solo dire che tutto quello che ho detto sembra schizofrenico ma non lo è sembra una parte di uno psicotico che emerge durante le pause di lavoro io tutti i giorni faccio un altro lavoro cioè faccio un lavoro parallelo faccio il giornalista a dita i criminali ma credetemi non è incompatibile con quello che vi ho detto adesso perché in fondo credermi non è facile quindi che cosa posso dire vi dico questo non è importante se voi pensate che tutto quello che vi ho raccontato esiste davvero l'importante che auspicabile l'importante che l'utopia un giorno possa diventare realtà perché tutto quello che faccio e che sto raccontando pensando a volte anche io di essere un visionario lo faccio per amore e solo per amore di una certezza voi dovete avere una certezza e seduti paese dubitate di questo siete falsi e perversi potrebbe anche non essere vero nulla di quello che ho raccontato per me invece lo è ma ciò che invece certo che io auspico quella società quel modo di vita quell'amore quella libertà quella pace e quel paradiso che noi potevamo realizzare che invece abbiamo rifiutato e di un'altra cosa dovete essere certi malgrado potreste non credere a quello che vi ho detto l'esistenza di cristo gesù di nazarete lui veramente non era di questo mondo ma l'ha detto io non sono del mondo voi siete del mondo ma io non sono di questo mondo un abbraccio grande a tutti grazie a tutti